Volevo di partire prima, ma invece siamo partiti l'orario, non lo so perché ho un quattro settimane lavorato. E' 45 minuti. Il problema è che siamo tutti dentro insieme. Quante ne siamo partiti per Pellini? C'è Federico, c'è Michele davanti. 15, Michele, 16, noi 17. Quante giorni ieri ha detto che si è fermato, erano sei gli autobus. Grazie.